Dottor Francesco Laurelli, dunque un'altra grande soddisfazione per il suo centro perché è stato dichiarato come centro di riferimento per la Regione Molise. Noi abbiamo un'associazione che si chiama SOI che raccoglie gli 8.000 oculisti italiani. Questa associazione ha messo in campo un numero verde cui gli utenti possono rivolgersi per chiedere spiegazioni sull'occhio e ovviamente il coronavirus. Sono stati creati 20 centri regionali e nel Molise siamo stati scelti noi. Ed è molto utile perché stiamo ricevendo molte telefonate di pazienti preoccupati ovviamente per le malattie oculari. Volevo ricordarle che il primo medico cinese che ha scoperto la malattia era un oculista poi è morto e è morto in reparto. E quando il paziente ha dei dubbi può chiamare tranquillamente questo numero verde e a cui risponde sempre un operatore e quando poi il medico non è disponibile verrà ricontattato. Ecco, Sandro, ma quando si deve chiamare il centro oculistico Laurelli? Naturalmente nel caso dell'Ammolizio. Quali sono i sintomi per cui ci si deve allarmare? Certamente non la banale congiuntivite. In questo periodo, come lei sa, ci sono congiuntivite primaverile, comprovito, occhio rosso. Non è quello il problema. Quando l'occhio è molto rosso, gonfio, a volte con ecchimosi, addirittura io ho avuto dei casi importanti che poi abbiamo risolto. Quando la situazione non è chiara o è diversa dagli altri anni, a quel punto è opportuno rivolgersi allo specialista. Quindi non per un arrossamento generico, però sa, io mi metto anche nei panni dei nostri telespettatori, poi è difficile anche discernere da soli se è il caso di allarmarsi o meno. Intanto noi siamo operativi, lo siamo sempre stati, quindi siamo sempre disponibili. Quando il paziente ha dei dubbi può chiamare e in caso questo fosse necessario noi siamo pronti anche a visitarlo. Certamente. Ricordiamo anche che, come mi diceva in un'altra circostanza, lei ha già curato dei pazienti che hanno avuto il coronavirus naturalmente sotto forma di congiuntivite e alla fine sono guariti. Abbiamo avuto due casi molto importanti, due membri della stessa famiglia non conviventi con congiuntivite da coronavirus. Abbiamo avuto molte difficoltà all'inizio perché non esisteva una cura specifica per il virus. Poi nel tempo abbiamo messo a punto una terapia che è diventata molto efficace, impiega qualche giorno in più rispetto alla terapia convenzionale, ma i risultati sono molto buoni. Quindi voglio anche rassicurare i pazienti che nel caso dovesse avere problemi di congiuntivite anche da coronavirus la possiamo curare.